amici appassionati di tennis nonché amici di Bocconi TV benvenuti alla nuova stagione di A Tu per TV sono sempre Giovanni Brescaccine qui con me Riccardo Galette come in tutta la passata edizione la prima puntata di questa nuova stagione è di stampo sportivo abbiamo con noi niente di meno che Paolo Bertolucci che è stato una delle più importanti stelle del tennis italiano possiamo ricordare il numero best ranking come numero 12 al mondo nel marzo del 1980 vincitore di sei titoli ATP nel corso della sua carriera ma forse il titolo più importante per l'Italia perlomeno è la Coppa Davis nel 1976 oggi forse più conosciuto come commentatore delle partite di tennis su Sky Sport nonché commentatore tecnico sulla gazzetta dello sport Paolo grazie per aver accettato il nostro invito benvenuto in A Tu per TV grazie grazie mille Riccardo come sempre la prima domanda allora io da grande appassionato di tennis che ormai seguo da posso dire dieci anni in televisione ti ho conosciuto inizialmente come commentatore poi mio padre mi ha spiegato anche la tua carriera partita tennistica perché meno male il padre non il nonno altrimenti sarebbe stato il padre è stato il padre e quindi volevo chiederti intanto come vivi questo rapporto tra diciamo commentatore che sei che sei oggi e tenista che sei stato e come si preparano le partite di tennis perché sono partite molto più lunghe rispetto ad esempio la classica telecronica calcistica e diciamo che anche molto spesso vengono analizzate durante la partita proprio perché ogni partita diciamo è una battaglia a sé psicologica tra tra i due giocatori quindi diciamo che volevo capire la preparazione quanto appunto conta nella telecronica tenistica ma indubbiamente il fatto come dire di di aver sempre vissuto dentro questo ambiente quindi ormai ho un po' di capelli bianchi e quindi ne ho viste un po' di cotte di crude partendo dagli esordi insomma di 40 50 anni fa eh prima da giocatore poi da tecnico adesso da commentatore eh questo naturalmente mi ha mi ha portato a a vivere proprio all'interno eh quello che che è vabbè la preparazione gli allenamenti la partita eccetera ma quello che a me piace più di tutti il fatto che il tennis è una partita dove non c'è uno scontro fisico come può essere il rugby o la pallacanestra o il calcio eh e dove quindi la componente psicologica è ruolo ha un ruolo veramente molto importante è una questione di sguardi di atteggiamenti di eh di come uno si muove sul campo eh da lì si riesce a capire intuire eh diverse cose eh a me piace come dire non commentare il dopo ma possibilmente e captare intuire quello che potrebbe accadere accadere di lì a poco e questo come dire è un giochino che eh avviene in diretta eh io non preparo le partite nel senso che eh a me non interessa a quelli che sono stati eh come dire gli scontri precedenti eh tutte quelle storie se uno ha vinto sul cemento piuttosto che sulla terra da altre parti eh io vado vado tutto a braccio vado a braccio guardando i giocatori come dire negli occhi tra virgolette e come ho detto prima cercando proprio di anticipare quello che accadrà sì che è un po' quello che mi aspettavo insomma perché eh seguo il tennis da molto tempo e e anche anch'io la vedo così nel senso non credo che eh diciamo ogni partita è a sé sì diciamo che forse queste queste lunghe pause di di silenzio nel parlato tra eh l'inizio di uno scambio e quello che potrebbe arrivare verso la fine perché di solito se non se non mi sbaglio il il commento arriva quando il punto sta per arrivare o succede qualcosa di di particolarmente clamoroso è questa la vera differenza che si può avere nel commento tennistico rispetto a un commento che deve seguire l'azione costantemente in una partita di basket in una partita di calcio in cui è meglio sempre tappare il buco piuttosto che far far sentire lo scambio di due colpi come invece nel tennis che invece è una cosa che viene molto apprezzata il fatto di sentire la pallina che rimbalza il fatto di sentire i giocatori che si si caricano tra un tra un colpo e l'altro è veramente una differenza importante nel nel commentare una partita in cui non si è solo commentatori forse ma si è anche spettatori di quello che sta succedendo sul sul campo eh che possa essere di cemento di di terra di erbe insomma eh io ho notato questa come differenza principale se se non mi sbaglio sì c'è questa regola eh non scritta ma che viene applicata che insomma il durante il gioco c'è silenzio assoluto eh e questo naturalmente vale principalmente per il pubblico perché potrebbe disturbare i giocatori ma vale anche per i commentatori perché secondo me è giusto che il pubblico da casa apprezzi determinate cose eh che accadono in quel momento è inutile che io dica eh dritto di fedele rovescio di Nadal eh palla corta di quello eh attacco di quell'altro cioè lo vedi da casa quindi non serve assolutamente a niente eh cerco di intervenire non sempre non in continuazione ma quando accade un qualcosa di particolare o vedo eh determinate cose allora eh commento quello appena che è appena accaduto oppure molte volte mi piace anche dire eh e preparare quello che sta per succedere nel senso che secondo me a questo punto non so aumenterà il ritmo accelererà oppure eh dovrà prendere una pausa maggiore dovrà essere più aggressivo eh dovrà fare un passo indietro dovrà farlo in avanti ecco questo secondo me è quello che ehm come dire che può aiutare eh il telespettatore che magari non è così addentro a capire certi meccanismi tenendo però presente che io sto parlando dai microfoni di Sky e non della Rai perché eh c'è una differenza enorme eh parlare con con gli abbonati di Sky vuol dire parlare con persone che ne sanno quasi più di me nel senso che sono grandi appassionati che seguono in continuazione quindi è inutile eh devo andare un po' più sul tecnico è inutile ehm fare e parlare di cose troppo semplici eh che per loro sarebbe veramente cose elementari devo andare su cose invece di alto livello eh trasmesso invece alla Rai dove cambia completamente il pubblico ad esempio il commentatore e i commenti sono molto più semplici molto più facili da far capire eh senza scendere troppo a livello psicologico posso fare una una curiosità mia eh tutte le 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 telecronache che sentiamo su Sky eh credo siano da studio e non dal dal campo è così o o vi recate spesso ai ai tornei in presenza ci recavamo ci recavamo molto spesso ai tornei eh prima della pandemia dalla pandemia eh addirittura alcuni eh sono stati commentati in remoto vorrei dire da casa eh non so io da Verona e invece la la mia collega da Milano eh neanche nello stesso luogo quindi no 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 questo durante la pandemia ah durante sì durante la pandemia eh e poi anche quando io andavo a Milano negli studi però ad esempio la mia collega lo faceva da casa ah e poi dopo eravamo in due eh studi diversi sempre a Sky però in due postazioni diverse perché c'era sempre il discorso del covid eccetera adesso c'è un pannello di mezzo ma eh siamo tornati nuovamente nella stessa nella stessa speaker room quindi siamo siamo quasi tornati alla normalità però prima insomma abbiamo fatto un po' di salti normali però ecco la cosa bella è che praticamente non se ne è accorto nessuno nel senso che ormai siamo sono a dei livelli pazzeschi per cui riescono a sincronizzare la voce viene fuori come come se fossimo una una vicino all'altro e invece lei era a Milano a casa e io ero a Verona a casa. Per chi forse non lo sapesse poi lascio la parla a Riccardo credo lei credo tu stia parlando di Elena Pero la la voce principale nove nove match su dieci a volte anche con altri ma insomma diciamo che nove volte su dieci commento con lei sì che è la voce principale possiamo dirlo del del tennis su Sky sì 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 comunque io io volevo chiederti invece come la pandemia ha cambiato il tennis perché a me sembra che in questo questo anno e mezzo di transizione con le classifiche congelate con una situazione comunque internazionale in cui i giocatori devono vivere in questa bubble in questa bolla in cui non possono uscire credo che magari ora stia migliorando la situazione con i vaccini e tutto però mi sembra che ci sia stato veramente quel ricambio generazionale tra virgolette che tutti si stavano aspettando da un sacco di anni perché i top 3 top quattro eh come Federer e Nadal diciamo al momento sono fuori stanno venendo fuori come abbiamo visto anche con la Lever Cup eh i giovani e soprattutto anche il fatto magari delle di queste classifiche bloccate che un po' eh hanno magari falsato la classifica magari tra virgolette anche qualche torneo nel senso che eh il fatto che comunque le classifiche non rispecchino eh la classifica di quel giocatore ma probabilmente in quel momento magari possono aver in un certo senso ehm cambiato il tennis quindi penso anche da ci sia stato un cambio ultimamente o o invece rivedremo sempre i soliti alla fine eh lì davanti quando ritorneranno Federer e Nadal e e Diokovic che vabbè ancora sta ancora giocando insomma. No il eh quello non accadrà più perché c'è una c'è una carta d'entità e su quella su quella non puoi farci niente anche se sono dei fenomeni campioni eh fenomenali eh il fatto che che addirittura siano stati costretti un po' per la pandemia un po' per problemi fisici a saltare un anno un anno e mezzo alla loro età cioè Federer c'ha quarant'anni eh Natale a trentacinque barra trentasei cioè star fermo un anno vuol dire perdere cinque cioè tra venticinque e ventisei come ad esempio per Berrettini eh o per Zverev che ne ha ventitré ventiquattro eh non è cambiato niente ma per chi è già avanti lo sappiamo che ogni anno vale per cinque e quindi è impossibile che 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 torni a essere quello di prima eh Djokovic si sta come dire riprogrammando di fatti adesso non andrà a Indian Wells perché già in Europa non vuole andare in California per poi tornare indietro e giocare Parigi eh e i giovani cominciano a avere quei ventitré ventiquattro anni sono nel circuito da alcune stagioni stanno come dire eh prendendo il posto eh dei grandi le nuove classifiche secondo me hanno eh hanno aspettato troppo troppo tempo eh non è la classifica attuale eh non è proprio quella vera quella veritiera del dell'ultimo anno eh sicuramente purtroppo eh uscirà dai primi posti Federer eh e Nadal anche lui uscirà indubbiamente eh mentre a parte Djokovic che rimane saldamente su in cima eh i giovani partendo da Medvedev eccetera prenderanno e saranno nei primissimi posti a livello mondiale per fortuna che noi abbiamo Berrettini che è ben posizionato e che avrà la possibilità anche di di salire ulteriormente a proposito di eh Matteo e e della nuova classe dirigente tra virgolette tennistica che sta avanzando Matteo è praticamente ormai alle alle final possiamo non 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 gliela tiriamo però no ma lo è lo è ok io io guardo costantemente la race per capire se Gianni ce la può fare non c'è problema ma eh in questo momento è a Sofia mi eh ieri ha battuto Duckworth può essere no quello è Sinner sì sì Sinner Sinner stavo parlando di Sinner ah ok no no ho capito Berrettini scusa no 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 Sinner è tutto un altro tutto un altro problema deve deve vincere deve vincere tanto per riuscire arrivare a Torino eh ho visto che eh in questo momento mi pare che l'ottavo sia eh Rud o Urcash non mi ricordo più ed è a circa cinquecento punti da da dall'ottavo posto diciamo che forse tempo ce n'è per arrivare a Torino però ormai non più così tanto no ce n'è poco e poi soprattutto Ruddo visto che che già si trova in Califra è a San Diego eh sta vincendo e quindi è in semifinale e da quel punto di vista lì sarà difficile riuscire come dire a guadagnare terreno bisogna sperare che perda e bisogna sperare che vinca Sinner per guadagnare qualcosa e poi dopo lui ha un grosso vantaggio perché si trova già in California giovedì inizia in New Wales eh mentre invece eh Sinner qualora anche arrivasse a giocare la finale domenica a Sofia poi lunedì dovrà prendere l'aereo andare in California ci sono eh nove ore di differenza di fuso per cui c'è il grosso grossissimo rischio che entra in campo alle due di notte alle tre di mattina e che naturalmente non possa in così breve tempo aver assorbito il fuso radio e quindi offrire una prestazione alto livello e India Wells senza eh senza eh senza naturalmente Federer, Nadal e tanti altri giocatori che non vogliono dall'Europa tornare in America eh lì ci sono è un mille ci sono in ballo una marea di punti e lì si può veramente eh fa la differenza quindi vabbè speriamo speriamo al massimo lo vedremo a Milano forse se se non riesce se non riesce a qualificarsi per per le finals di Torino penso che che giocherà anche se le ha già vinte le next gen a Milano e se posso chiedere ehm invece gli altri gli altri due ragazzi che ormai non sono più ragazzi uno sì ma l'altro non è più un ragazzo eh Sonego e ehm mamma mia non mi viene il nome Cognini no no Musetti Musetti blackout completo ehm sono abbiamo una scommessa tra me e Riccardo perché io sostengo che ehm siano soprattutto Musetti sia un po' frutto del momento del dell'andamento della pandemia invece Riccardo ritiene che possa continuare eh su su questi livelli che ha vinto due set prima di di infortunarsi contro Diokovic a Roland Garros eh ha fatto i suoi ha fatto i suoi i suoi tennis ha fatto i suoi ehm tornei anche quest'estate volevamo capire se sono più soprattutto Musetti un exploit momentaneo e poi ci sarà una una ascesa lenta oppure sono già arrivati e devono solo migliorare soprattutto Musetti forse allora Musetti è un giocatore è un giocatore di talento ehm superiore da questo punto di vista anche a Sinner però non ha la cilindrata fisica ancora per poter competere altri livelli dovrebbe rivedere la programmazione giocare meno prepararsi di più dal punto di vista fisico perché altrimenti non ha non regge non regge non può reggere contro quelle formula uno che sono gli altri giocatori eh dal punto di vista fisico dal punto di vista invece del braccio tecnico eccetera lui è in grado eh di sopportare eh queste queste sfide è un giocatore veramente dotato di grandissimo talento è ovvio che come tutti i giovani poi c'è un'esplosione eh e dopo c'è una fase di assestamento un assestamento che può durare anche un paio d'anni eh perché devono maturare o dal punto di vista fisico o dal punto di vista tecnico eh naturalmente mentale acquisire esperienze giocare tornei perdere delle partite eh vincerne altre capire dove dove c'è ancora da migliorare insomma è un processo come come in tutti gli sport ma poi come la nella vita eh che richiede un po' di tempo eh con i giovani bisogna avere un po' di pazienza invece magari gioca una semifinale di un torneo importante da lì la gente pensa che sia una regola che poi anche il torneo successivo ehm riesca a compiere lo stesso esplorare questo non è assolutamente possibile eh ci sono alti e bassi eh altrimenti eh vorrebbe dire che avrebbe già raggiunto fisicamente mentalmente come esperienza e tecnicamente il suo massimo livello e e un un giocatore di diciannove e vent'anni non può assolutamente aver raggiunto il top eh altrimenti quelli di trenta cosa stanno a fare quindi ci vuole tempo e pazienza. No quello che mi sembra di vedere un po' di Musetti c'è forse l'unica tra virgolette problematica che vedo all'interno del suo gioco è il fatto che la sua palla non sia pesantissima a differenza di Simmer che l'ho visto anche tra l'altro alle next gen nella finale contro Demi Naur ehm c'è un notato che la sua palla eh non è così così forte non è così pesante magari da poter magari stare a quei livelli a quei top però poi ho visto la partita con Diokovic e mi sono anche per virgolette riprenduto anche se non riesco a capire se in quella partita si è stato più un demerito di Diokovic che non è riuscito ad andare subito in partita ma che poi dopo comunque è riuscito come sempre a a vincerla e a portarla a casa o invece si è stato invece un grande merito di Musetti che invece ha giocato in maniera formidabile e ha giocato benissimo con le sue variazioni. Ma quando quando accadono queste questi fatti eh non è mai tutto merito di uno demerito dell'altro eh è ovvio che se Diokovic quel giorno avesse giocato al cento per cento eh quasi sicuramente Musetti non avrebbe vinto neanche un set pur giocando bene non ci sarebbe stata assolutamente possibilità cioè gli esploat quando avvengono quando il giocatore o la squadra che entra in campo da favorita non rende al massimo rende quel venti per cento in meno quindici per cento dieci per cento in meno eh e questo dà modo all'altro che invece eh trova una giornata fantastica di batterlo insomma l'esempio più classico è Diokovic che ha perso la finale degli US Open contro Medvedere tutti sono sono meravigliati meravigliarsi è giusto nel senso che nessuno si aspettava tre sette a zero ma la cosa cioè ha perso contro il numero due del mondo non ha perso contro il numero centosessantasette e quindi le differenze sono abbastanza minime per cui quel giorno lui ha giocato al novanta per cento e il novanta per cento vuol dire non eh non è sufficiente per superare il numero due del mondo come giusto che sia sarebbe stato sicuramente sufficiente se avesse giocato magari contro il numero dieci o numero dodici col numero due paghi come giusto che sia eh mi sembra che abbia fatto un po' tutto il torneo così degli US Open nel senso è sempre partito come un set sotto poi piano piano è riuscito sì come sempre a vincere però quello che ho visto nella finale invece con con Medvedev cioè per la prima volta mi è sembrato che proprio Diokovic si è fatto prendere delle emozioni cioè non avevo mai visto Diokovic piangere in campo vabbè era una circostanza speciale perché stava per compiere grande slam quindi sì stava per entrare nell'Olimpo del tennis e però a me è sembrato che in quella finale veramente Diokovic non si è entrato diciamo giocando come come fa di solito mentre però Medvedev abbia invece giocato su miglior tennis perché c'è anche da dire che non ha veramente sbagliato niente cioè è stato quello che ho detto quello che ho detto prima ma anche se sono questi fenomeni che hanno vinto tutto di più tutti i posti del mondo eh però e sono abituati a gestire la pressione però certo eh un'occasione del genere probabilmente unica mentre eh la finale di un torneo ricapita l'anno dopo per cui se perdi anche la finale di Wimbledon puoi come dire rifarti l'anno successivo eh eh portare a casa il grande slam no probabilmente questa è stata l'unica eh forse anche l'ultima mi auguro per lui di no volta in cui può essersi trovato alla dopo ventotto vittorie di fila nello slam eh a giocare l'ultima quella definitiva ricordiamoci cosa è accaduto anche a Serena Williams eh credo tre anni fa contro la Vinci cioè quello è ancora peggio perché insomma obiettivamente la Vinci non era certo numero due del mondo lei giocava in casa a un passo dalla dal grande slam è inciampata è caduta e quindi evidentemente c'è c'è una pressione che che aumenta a dismisura e che non riescono a gestire nonostante che siano detto dei dei campioni fenomenali posso fare una domanda da io ho iniziato a seguire il tennis quasi tre anni fa e ultimamente lo seguo molto assiduamente e non mi era ancora capitato di vedere il tennis alle olimpiadi vorrei introdurre per un secondo se possibile questo tema cosa cosa ne pensa del fatto cosa ne pensi chiedo sempre scusa ma purtroppo è deformazione professionale cosa ne pensi del fatto che Riccardo mi ha spiegato che il vero tennis è quello che si si vede al ai tornai dello slam e forse quello che si vede alle olimpiadi non dico che viene sminuito dai dal circuito dai tenisti del circuito ma insomma non è visto con la stessa importanza della di una vittoria di uno slam è vero o certo che è vero e scusa perché invece nel calcio cosa contano i mondiali gli europei la champions l'olimpiadi non so neanche che roba è l'olimpiadi è una eh io ho avuto la fortuna di andare all'olimpiadi a a Sydney è una delle cose per un appassionato di sport eccetera eh più più belli più esaltanti più emozionanti che possano esistere al mondo io mi sono divertito come un bambino non ho dormito per due settimane correvo come un pazzo da una partita di ping pong a una di basket ai quattrocento metri d'atletica cioè alle semifinale del fioretto femminile cioè non ho mai dormito per due settimane veramente però per un tennista è diverso per il tennista ci sono gli slam ci sono i mille ormai non c'è più neanche la Coppa Davis men che meno le olimpiadi sì c'è un fatto ad esempio per un giocatore come come Djokovic che rappresenta la Serbia eh per loro una medaglia d'oro per la Serbia sarebbe una cosa molto importante per un giocatore ad esempio americano che 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 portano a casa settanta medaglie ogni volta alle olimpiadi non se ne accorgono neanche se c'è un tennista o meno per di più sono abituati a vivere in una in una bolla tennistica eh molto particolare con con usi costumi eh tempi ritmi eh completamente diversi eh dentro al villaggio olimpico che è questo circo pazzesco ventiquattro su ventiquattro non si dorme mai eh i giocatori di tennis eh perdono i loro riferimenti eh non ci va vanno volentieri come dire alle olimpiadi ma non a giocarli loro vorrebbero vivere da lì dentro senza senza giocare tant'è vero che basta vedere i i nomi dei giocatori insomma c'è 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 Massu che ha vinto due medaglia d'oro l'olimpiadi cioè che è una roba fuori dal mondo e lo stesso Zverev ha avuto a doveva andare a Rio de Janeiro ha detto che non si sentiva pronto e non è andato e non è successo assolutamente niente come non è andato Nadal come non va a federe eh ecco sì eh probabilmente Sinner ha fatto lo stesso discorso non sono pronto perché andare all'olimpiadi a metà stagione vuol dire perdere dalle quattro alle sei settimane tra trasferte le due settimane là e il tornare indietro la pandemia i rischi che ci sono perdi da cinque a sei settimane non è un caso che Musetti da quando da Wimbledon non ha più vinto una partita mentre invece Sinner è andato in America poi ha vinto il suo torneo eccetera eccetera ha fatto la sua programmazione eh sono eh un massacro per un tennista le olimpiadi purtroppo è così mi piace come fai sempre notare comunque l'importanza degli spostamenti perché cioè e se non uno sport internazionale non come il calcio che comunque giocano ok in Europa o comunque in Italia ogni ogni settimana cioè è veramente importante anche capire che i tennisti si muovono vanno da una parte all'altra del mondo da una settimana all'altra e devono anche abituarsi ai fusi orari e c'è veramente una vita complessa e volevo chiederti cosa ne pensi di come nemmeno gestiti ehm c'è probabilmente i montepremi nel senso eh i primi al mondo guadagnano molto si dice sempre che dopo i cento al mondo si fa un po' la fame nel senso che fanno fatica a mantenersi io di solito vado sempre al challenger di Cordenons che è vicino a casa mia e comunque cioè ogni anno comunque vedo vedo anche questi tennisti cioè capisco che non è una vita facile dai cento in su secondo te dovrebbero dovrebbero ridistribuire il montepremi in maniera più equa o o invece va bene così insomma e cioè ma lo hanno lo hanno fatto ad esempio proprio perché c'era questa pandemia eh dove i grandi potevano benissimo starsene un anno a casa eh senza far niente tanto i soldi arrivavano lo stesso eh hanno accettato di andare a giocare i tornei con un montepremi ridotto del cinquanta per cento e soprattutto con una diversa distribuzione del prize money cioè alzando moltissimo quella del primo secondo terzo turno e decapitando eh totalmente quella dei primi posti per farti un esempio torneo di Roma piuttosto che di Monte Carlo di due anni fa cioè un mille eh c'era un milione al al vincitore quest'anno vincitore ha preso duecento duecento venti mila questo per ci sono anche l'hanno l'hanno accettato i giocatori pur di eh come dire non eh far sospendere il circuito e della possibilità ai giocatori eh meno forti di guadagnare e di di portare a casa un po' di soldi ripeto tanto ah ai primi del mondo non gli cambia non gli cambia nulla dal punto di vista economico se stanno fermi un anno meno per gli altri giustamente come hai segnalato te sicuramente però allora la stessa cosa mi devi spiegare un giocatore eh di serie C di calcio eh rispetto a un giocatore di serie A e lì allora non è la stessa cosa sono stati fermi guadagnano niente rispetto ai calciatori di serie A e allora i calciatori di serie A dovrebbero loro decurtarsi e dare i soldi a quelli della serie C o della serie D è una roba impensabile il tennis lo ha fatto e secondo me questo va a merito di questi di questi di questi campioni che che hanno accettato la situazione l'hanno capita l'hanno compresa eh e sono riusciti a a portare avanti la situazione adesso visto che gli stati tornano a essere più o meno pieni eh e questo sicuramente è un grande successo del tennis che non dimentichiamolo quando ancora eh qui si perdeva tempo giocando partite allucinanti che non servivano a niente quando già era scoppiata la pandemia il tennis è stato il primo sport a livello mondiale a fermarsi ah sì anche perché proprio per il fatto dell'internazionalità che ha che ha il tennis e poi in mezzo a questo devi anche a fusi orari viaggi eccetera l'alimentazione che è l'altra cosa molto molto importante il fatto di riuscire a gestire l'alimentazione pur cambiando continente eh praticamente quasi tutte le settimane eh sì e volevo chiederti un'altra curiosità mia che stavamo parlando prima delle olimpiadi che non hanno tutta questa rilevanza nel mondo tennistico cosa ne pensi invece della modifica che hanno fatto alla Coppa Davis onestamente a me non piace per niente questa soluzione cioè preferivo la Coppa Davis come la prima anche se come abbiamo detto fino a due secondi fa gli spostamenti magari sono difficili per gli per i tennisti stessi però c'è non credo sia una grandissima soluzione quella trovata che hanno fatto appunto in Spagna o la TP Cup che comunque non ha tutta questa rilevanza anche se la trovo un po' più carina rispetto alla Coppa Davis secondo te la cambieranno ancora perché non mi sembra che sia stato un grande successo rimarrà così invece ma in questo caso la Coppa Davis andava rivista cioè la Coppa Davis è nata nel 1900 quindi dopo centoventi anni sicuramente andava qualcosa andava rivisto i giocatori non erano più disposti a eh dare quattro cinque settimane l'anno eh senza giocare tornei per la propria nazione ehm per cui qualcosa andava fatto eh pensava appunto di concentrare tutto in una settimana massimo due in un posto unico eccetera eh però insomma la Davis è sempre stata tre set su cinque tre giorni ma soprattutto la possibilità per ad esempio non so ecco la Serbia di poter giocare un match Serbia Italia o Serbia Spagna eh e portare veramente ventimila persone allo stadio a vederlo eh se lo stesso match lo giochi a Boston piuttosto che a Madrid è ovvio che se c'è mille persone c'è qualcosa eh i giocatori poi soprattutto per le nazioni meno meno forti preparate nel tennis la Coppa Davis era poi l'unica possibilità che avevano di poter vedere il proprio campione da vicino dal vivo altrimenti lo vedi sempre in televisione cioè se non gioca la Davis gioco dice quando lo vedono in Serbia mai eh lo vedono sempre in televisione prima invece con la Davis c'era questa possibilità io ho sempre detto che la Davis è morta morta due anni fa questa è un'altra cosa che non dovrebbe chiamarsi Coppa Davis dovrebbe chiamarsi in un'altra maniera eh i giocatori si sono venduti come spesso capita al dio denaro eh mettendo su una specie di niente un'altra cosa non non la definisco né eh buffonata né ridicola né niente è un'altra competizione che dovrebbe avere un altro un altro nome tutto lì non c'è niente la Coppa Davis Coppa Davis è morta due anni fa eh va bene così perché è giusto cioè si cambiano le regole cambiano i regolamenti e quindi era giusto anche che venisse cambiata sicuramente la la Coppa Davis per me è un peccato eh però eh così va il mondo e bisogna adattarsi anche perché lei è vinta la Coppa Davis quindi credo tu e beh rimane rimane così insomma quella non 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 si può togliere non si può togliere è lì no anche se la cancello e invece cosa ne pensi dei dei di Berrettini e Sinner perché Berrettini ormai mi sembra abbastanza cioè è arrivato mi sembra un top time stabile eh dovrebbe magari migliorare lo verso però sì l'ho anche già fatto e invece Sinner anche lui sembra ormai anche lui addirittura d'arrivo insomma eh tra tra i primi dieci eh pensi che Berrettini riuscirà a vincere uno slam eh questa è la vera domanda vista anche la finale di Wimbledon e comunque anche la semifinale il suo gioco è che comunque pochi giocatori riescono a gestire proprio per le variazioni di velocità che utilizza col col servizio e soprattutto col diritto anche ma indubbiamente Berrettini ormai è un giocatore sì un top ten senza nessun problema se riuscirà o meno a vincere uno slam non lo so non è facile è molto molto difficile eh finché c'è ancora questo gioco c'è questo livello poi insomma ho visto che Zverev progredisce Medvedev eh Idem eh Zizipas sicuramente farà ancora un salto in avanti quindi non c'è la concorrenza non non manca poi arriverà anche magari qualcuno da dietro eh però diciamo che lui è un giocatore che dai quarti in poi se la gioca insomma è un eh è un grosso osso duro è un grosso problema da risolvere per gli altri eh Sinner io ho sempre detto io aspetto fine del duemilaventitré al fine duemilaventitré si potrà e lui sarà ancora giovanissimo eh si potrà cominciare a tracciare delle linee capire eh quali sono i suoi limiti e fin dove potrà potrà arrivare eh io ho sempre detto che insomma è un giocatore da primi dieci ma proprio facile senza nessun nessun problema però anche lì come ho detto per Musetti prima bisogna aspettare ci vuole pazienza deve deve giocare deve prendere dei schiaffi deve perdere le partite deve riuscire a gestire la pressione eh la la fortuna sua e dei tennisti è che stanno poco in Italia e quindi non sentono e non leggono anche se adesso purtroppo tra virgolette con c'è la possibilità con i social di sapere di leggere tutto però in linea di massima non hanno molto tempo quindi eh prima era più facile perché tu giocavi all'estero non sapeva nessuno dove eri non ti trovavano neanche non c'erano neanche i cellulari quindi non venivi mai trovato sia in caso di vittoria che in caso di sconfitta adesso sei sulla sulla bocca di tutti in continuazione però eh il fatto di 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 adesso è a Sofia la prossima settimana è India Wells quindi eh difficile che lui riesca come dire a capire quella che è può immaginarsela ma insomma quella che è eh l'attesa l'attenzione ehm che c'è tra i tra gli appassionati italiani quindi da questo punto di vista ha un grosso vantaggio però la pressione poi sul campo quando quando entri in quel catino con diecimila persone eh e davanti a un un campione di altissimo livello quella quella la devi devi imparare a gestirla c'è chi è più bravo chi è meno bravo però se devo arrivare su in cima come dico sempre dove 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 l'aria è molto rarefatta eh devi abituarti eh su c'è c'è posto per pochi eh ah sì mi viene in mente Berrettini quando aveva giocato con Federer nel centrale di Wimbledon che era dove ho preso in stato c'è stato in balia della della tensione del del pressione quindi anche lui ha imparato insomma a gestirla eh sì ma l'ha imparato tra l'altro a venticinque anni quindi neanche ho venticinque non so quanti ne abbia adesso eh sì quindi neanche proprio così giovane come sono invece volevo chiederti cosa ne pensi dei toilet dei toilet break di per l'amor di dio perché anche c'è tutti i tennisti credo siano d'accordo che non vadano bene insomma che è una buffonata è una cosa ridicola è una cosa che devono assolutamente io te lo dico da tanti anni sinceramente hanno come dire lascia aperto aperto il cancello e adesso adesso è un problema è un problema perché già c'è il medical time out che è un'altra buffonata se a un certo punto c'è un problema un piede te lo tieni perché in qualsiasi altro sport non capisco perché si debba fermare ma soprattutto l'avversario ma per quale motivo io avversario devo stare lì aspettare quattro cinque minuti perché qualcuno ti metta un cerottino al dito ma insomma è un problema tuo ma mica un problema mio e non può diventare un problema mio te lo gestisci il cerotto te lo metti da solo e se no ti tieni la vescica come è sempre successo altrimenti alle olimpiadi se uno inciampa in un ostacolo e cade no fermi tutti si torna indietro si riparte ma dai su ma non esiste poi ma chi è mandato in bagno ma 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 in la vita poi devi cambiarti la maglietta te la togli e te la cambi ma che problema c'è posso capirlo a livello femminile ma a livello maschile cioè non esiste e poi chi chi è che chiede sempre il medical time out e il toilet break sempre il giocatore che è in svantaggio basterebbe mettere una semplice regola che il giocatore che è in svantaggio non può usufruire né del toilet break né del medical time out a quel punto lì al 99 per cento già elimineremo il problema è avere una soluzione che non sono che non avevo mai pensato effettivamente che sarebbe interessante ma scusate se mi inserisco quanto c'entra il rispetto dell'avversario in tutto questo nel senso che se riccardo mi ha insegnato una cosa è che il tennis è un gioco in cui gli avversari si devono rispettare ma è un giochino psicologico questo cioè io sto perdendo e allora per rompere il ritmo per rompere il ritmo io ti blocco mi invento il toilet break sto via tra quattro minuti mi rilasso mi ritrovo il bando della matassa e ti lascio lì seduto su una sedia questo secondo me è una roba è una roba che non esiste perché è un vantaggio che ho acquisito grazie magari al set non ho capito poi perché devo stare lì dieci minuti seduto aspettare i tuoi comodi eh per non parlare poi delle televisioni di tutto il mondo che stanno lì dieci minuti a parlare del nulla perché eh quando tu hai tornei importanti hai centottanta duecento televisioni collegati a tutto il mondo già abbiamo il problema della della pioggia che è soltanto in certi tornei diciamo così eh non crea non crea troppo imbarazzo da altre parti c'è piove e per cui devi aspettare devi aspettare cioè queste sono tutte cose che sono secondo me delle limitazioni all'espandersi del del tennis è uno sport dove non ci sono i passaporti dove non c'è frontiere si gioca in tutte le parti del mondo lo giochi undici mesi all'anno non è come come il basket piuttosto che che l'NFL o altri o l'hockey che hanno il tutto quanto compresso in tre quattro mesi il tennis ha questa fortuna si gioca almeno undici mesi all'anno e secondo me devono assolutamente approfittarne senza senza perdersi in queste in queste sciocchezze a me sembra anche magari una un po' una protesta da parte di Tittipas perché aveva fatto un tweet mi ricordo qualche mese fa dove diceva che il coaching dovrebbe essere permesso nel tennis avevano provato anche ehm alle XTN a mettere le cuffie ho visto che diciamo che in qualche modo si sta pensando di di introdurlo tu pensi che ci dovrebbe essere il coaching nel tennis che a quanto pare c'è già eh perché comunque i giocatori non rispettano appunto questa regola degli allenatori e anche questa è una cosa cioè lo sport va avanti per cui sì è vero che il tennis da certo punto di vista è anche bello perché devi da solo risolvere i problemi senza che senza l'aiuto dell'allenatore eccetera questo però cosa fa comporta che l'allenatore deve mettersi dietro l'arbitro che ogni volta che mi tocco l'orecchio sinistro vuol dire una cosa ogni volta che mi gratto il naso vuol dire un'altra se poi mi tocco i capelli devi fare un'altra cosa eh se guardo in alto vuol dire che devi lanciare la palla più in alto insomma sono tutte buffonate eh che però ormai sono diventate quasi una regola a questo punto io non dico in continuazione perché anche quelli con le cuffie forse un po' troppo avanti però perché no a fine set pardon a fine set l'allenatore che scende in campo è anche molto interessante sarebbe molto interessante come nel basket sentire anche quello che dice perché ci sono tanti allenatori che sono dei semplici portaborse e quindi verrebbero anche smascherati eh perché una cosa è dire forza a Kaman e applaudire attento a questo punto eh mi raccomando questo game metti dentro la prima cioè queste sono tutte cose che sa anche un bambino di tre anni però a quel punto si capirebbe se eh quali sono gli allenatori quelli veri che hanno la mossa che danno il consiglio giusto per ribaltare l'esito della partita ho capito non ho mai pensato a questo fatto dell'allenatore che magari appunto non è non è così bravo e invece volevo chiederti cosa ne pensi di Federer cioè lui ha 40 anni ha detto che ritornerà secondo te ha chiuso invece con l'ultima partita a Wimbledon e come vedi il tennis nei prossimi anni pensi che Diokovic continuerà a vincere le slam su slam come sta facendo o avrà una battuta d'arresto perché sono appunto arrivati più giovani cioè come lo vedi un po' il futuro del tennis e come vedi il rientro dei di Federer e di Nadal che sono fuori al momento ma che appunto uno è vecchio sembra ormai appunto molti dicono finito anche se appunto dispiace a tutti e invece Nadal c'è ancora magari più giovane può ancora dire la sua insomma Nadal sicuramente sulla terra battuta a Parigi secondo me ancora è ancora più forte se appunto fisicamente Federer secondo me è un po' come Djokovic quest'anno a New York ha perso l'ultimo treno in quella finale di Wimbledon non credo sinceramente che possa essere in grado di vincere sette partite di file in due settimane però sarà sempre una gioia per gli occhi guardarlo e vederlo se Djokovic se avrà ancora come dire la fame e la determinazione la rabbia e la voglia di riprovarci io credo che altri due slam proprio sono già in tasca sua non credo che ci siano i grossi problemi lui sicuramente supererà sia Federer che Nadal per quanto riguarda gli slam a fine carriera però bisogna vedere perché naturalmente anche lui se ha un po' meno di carica agonistica un po' meno di voglia non è proprio un giocatore di talento mostruoso il momento in cui cala un pochino fisicamente o mentalmente diventa tra virgolette un giocatore normale allora a quel punto lì i med, gli zeri, i zizi, i passi eccetera possono tranquillamente battere e superarlo poi che ci sia ma il tennis quello che c'ha di bello ripeto è che c'è questo ricambio continuo e ricordo dai tempi di Borg, di Vilas quando smisero adesso come facciamo poi arriva Edberg, arriva Becker, arriva Agassi, arriva Sampras e quando smettono come faremo? poi arriva Federer, arriva Nadal, arriva Djokovic e adesso come faremo? faremo che ne arriveranno altri come sempre è accaduto magari un indonesiano piuttosto che un marocchino non lo so ma qualcuno arriverà e l'Europa secondo me sarà sempre ai vertici come è sempre stato in tutti questi anni dove ha dominato sì anche perché ho notato che comunque adesso le più grandi accademie dei tennisti che sono in Francia come Muratoglu e Piatti mi sembra anche che sia una gravissima accademia in Italia quindi mi sembra che il tennis sia sempre più europeo appunto poi come dimostra anche la Lever Cup che ha vinto con quattro anni di fila senza mai perdere però non pensi che il tennis che abbiamo visto negli ultimi dieci anni mi viene da pensare sia stato la massima espressione del tennis perché veramente abbiamo avuto Federer che come hai detto è un piacere per gli occhi è il tennis in persona abbiamo avuto Djokovic che è a un muro e è stato probabilmente forse il più grande tennista a livello di risultati Nadal e Murray quindi anche Wawrinka al top cioè a mio modo di vedere probabilmente questo periodo è stato il massimo la sua massima espressione poi sarà difficile rivedere dei giocatori fenomenali come i Fab Four che hai nominato prima e poi se pensi che subito dietro c'erano appunto i Ferreri, i Zongai, i Berdic cioè giocatori di livello mostruoso abbiamo avuto la fortuna di vivere questo periodo fenomenale ce lo siamo goduti abbiamo ancora qualche scampolo e quindi cercheremo di di goderci fino alla fine però ripeto io sono sicuro che poi verrà fuori qualcuno non so se sarà Shapovalov che è scemo come però giocatore di talento mostruoso o qualche altro giovane che adesso ancora diciamo del quale non conosciamo il nome magari esplode tra due anni e poi speriamo insomma noi adesso siamo credo per otto dieci anni noi siamo a posto con i Berrettini con i Sinner, con i Musetti con i Sonego secondo me per dieci anni siamo a posto abbiamo una forte squadra abbiamo un movimento molto molto valido abbiamo retto per anni grazie a donne le donne adesso giustamente è finito un ciclo quindi si stanno riposando e riprepare i maschi sono adesso ad altissimo livello e quindi spero che poi sulla scia loro emergano nei prossimi anni anche anche altri giovani di cui adesso non conosciamo neppure il nome quindi è tutto come dire è tutto roseo e quindi adesso ci aspettiamo questa parte finale soprattutto con Milano e Torino col Master finale che secondo me sarà un successo pazzesco e quindi come dire viva l'Italia, viva il tennis ok? siamo riusciti a portarla a casa concludo con un'ultima domanda cioè volevo chiederti si dice, la butto così si dice lungo linea o lungo riga perché ogni volta che mio padre ti ascoltiamo ci siamo sempre fatti questa domanda cioè da dove viene quel lungo riga che ormai ti contraddistingue? non lo so si vede che magari si diceva così una volta non lo so e a me esce questo lungo riga però lungo linea e lungo riga è la stessa cosa insomma l'importante è colpirla e centrarla soprattutto con il passato grazie mille a Paolo Bertolucci per essere stato qui con noi ringrazio anche Riccardo e noi ci sentiamo in una prossima puntata grazie a tutti per l'attenzione ciao ciao